Si discute dei pericoli della strada che collega Battipaglia e Olevano sul Tusciano dove due giorni fa ha perso la vita Antonio Locuratolo. Il fabbro, 49enne, originario di Eboli, viaggiava a bordo della sua auto con la moglie che ora è ricoverata al Ruggi. La salma dell'uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'obitorio di Battipaglia. Sotto esame è anche la strada provinciale 29, in particolare il tratto in località Fiumillo in cui c'è stato lo schianto. Un tratto buio con segnali sbiaditi e illegibili e un manto stradale non uniforme. E' tornato a casa ma è ancora in stato di shock il 20enne che era a bordo della Skoda, l'altra vettura coinvolta nell'impatto.